Grazie signor Ministro, autorità responsabili del sistema nazionale e dell'ISPRA. L'occasione di questo primo rapporto credo sia un'occasione rilevante perché lo sforzo che è stato compiuto di armonizzare il patrimonio informativo centrale, nazionale, il lavoro fatto dal sistema delle regioni e delle autonomie è uno sforzo credo di grande rilievo su una questione chiave del nostro tempo. Noi possiamo grazie a questo primo rapporto di sistema avere una chiave anche metodologica per armonizzare sempre meglio il nostro patrimonio informativo e quindi per conoscere sempre meglio se possibile i contorni che si presentano in Italia di una delle questioni chiave del nostro tempo. In pillole abbiamo già visto dal video alcuni degli elementi fondamentali che emergono dal rapporto. Certamente in cima alle preoccupazioni internazionali della discussione globale e la questione climatica abbiamo visto e direi che le famiglie e i cittadini italiani hanno visto e sperimentato direttamente come questa non sia una questione soltanto globale, non sia soltanto una questione che riguarda l'Africa o i mari artici, ma diventa sempre più chiaramente una questione quella del cambiamento climatico che ha delle conseguenze visibili, misurabili a casa nostra, nel nostro Paese. Abbiamo in particolare sperimentato un alternarsi e un combinarsi assieme di precipitazioni inusuali per intensità e per violenza e contemporaneamente di periodi di siccità intensa nel nostro Paese, che hanno fatto ad esempio decidere al Governo ultimamente, nell'ultimo periodo, svariati stati di emergenza legati alla questione siccità, l'ultimo in ordine di tempo, quello in Sicilia, ma ne abbiamo deliberati numerosissimi nel corso dell'ultimo periodo. E contemporaneamente abbiamo assistito, ricordiamoci, le precipitazioni nevose del febbraio 2017, accompagnate anche dalle tragedie che ricordiamo, ma anche più recentemente a fenomeni meteorologici non usuali. Quindi questo impegno internazionale deve proseguire, l'Italia già nel G7 di Taormina ha fatto il possibile perché la diversa decisione assunta dall'amministrazione americana non si trasformasse in un indebolimento strutturale degli accordi raggiunti a Parigi. C'è ancora molto da fare sul piano politico, diplomatico e c'è molto da fare sul lavoro che nei nostri Paesi si deve fare per ridurre le emissioni che producono il cambiamento climatico. Qui ci siamo dati una strategia, la strategia energetica nazionale, che prevede alcuni obiettivi piuttosto ambiziosi. Non se ne parla moltissimo nel quanto si dovrebbe, ma sappiamo quanto sono rilevanti. Il nostro obiettivo è la totale fuoriuscita dal carbone nella produzione termoelettrica da qui al 2025. Siamo già abbastanza avanti dal punto di vista dell'utilizzo delle rinnovabili che hanno raggiunto in anticipo l'obiettivo che era previsto per il 2020 di superare il 17% le rinnovabili rispetto ai consumi finali di energia. L'Italia è piuttosto avanti su una questione che in molti Paesi europei è assolutamente cruciale. Chi di voi ha guardato alla discussione per la formazione del nuovo governo in Germania avrà notato che il primo tentativo di costruire una grande coalizione in Germania si è bloccato su due questioni. Una di queste due questioni era i tempi di decarbonizzazione, diciamo così. Le opinioni diverse circa i tempi di fuoriuscita dal carbone. Naturalmente questo lavoro deve contribuire anche a migliorare la qualità dell'aria dove, come spesso accade nelle questioni ambientali, assistiamo da una parte a dei passi avanti e dei miglioramenti determinati anche dai nuovi veicoli, la nuova qualità dell'automotive in Italia e nel resto d'Europa. Ma al tempo stesso sappiamo che, perlomeno per il particolato e per i biossidi di azoto, la situazione nelle nostre città è ancora piuttosto allarmante. E le città sono fondamentali perché dalle città viene l'80% del PIL mondiale, ma dalle città vengono anche il 70% dei gas serra a livello globale. E chiunque di voi abbia visitato per lavoro o per turismo di recente una megalopoli, per esempio in Asia, si sarà reso conto di quanto i livelli di inquinamento e le minacce alla qualità dell'aria siano attuali. E quindi l'impegno per le periferie, per la mobilità sostenibile, per il miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città, deve restare centrale. Così come queste fotografie in chiaroscuro riguardano anche la questione rifiuti, dove il nostro Paese ha la singolare caratteristica di essere contemporaneamente uno dei Paesi più avanzati dal punto di vista dell'economia circolare, dell'utilizzo delle materie seconde come materie prime e tuttavia è un Paese che ancora non ha raggiunto i suoi target di raccolta differenziata. Ci sono molte differenze tra parti e parti d'Italia sulla raccolta differenziata e anche vede a questo traguardo di ridurre la componente di scariche sotto il 10% nel 2035, traguardo europeo, come un traguardo che non sarà semplicissimo raggiungere. Ci sono molti amministratori locali qui presenti e sanno benissimo quanto questa sfida sia aperta. Abbiamo infine il panorama che riguarda il suolo, l'assetto idrogeologico, il consumo di suolo, che anche qui registra da una parte una consapevolezza accresciuta. I governi in questi anni hanno destinato molte risorse al risanamento idrogeologico, addirittura un insieme di circa 12 miliardi. Una parte di questo lavoro è partita, ci sono circa 1300 cantieri, 1,3 miliardi per far fronte al rischio di dissesto idrogeologico, ma basta guardarsi intorno, basta vedere le cronache per capire quanto una delle caratteristiche fondamentali della meravigliosa bellezza italiana, che è la sua fragilità, perché nessun Paese, forse come l'Italia, tiene assieme bellezza e fragilità, resta una sfida fondamentale. E a ricordarcela, voglio dirlo anche in questa occasione, sono innanzitutto i territori, i comuni colpiti dal terremoto, perché la sequenza sismica che abbiamo avuto tra il 2016 e il 2017 ha messo in evidenza, forse come non mai, questa fragilità della bellezza della nostra Italia centrale. E sono certo che la questione della ricostruzione resterà in cima all'agenda di governo, come lo è stata in questi mesi e in questi anni, resterà in cima all'agenda di governo per i prossimi mesi e per i prossimi anni. E il consumo di suolo, i dati che ci vengono illustrati, ci dicono che noi facciamo fatica comunque a imparare la lezione, perché uno dei dati più, dal mio punto di vista, sorprendenti del rapporto che ci viene presentato è il fatto che, nonostante la crisi economica, nonostante la consapevolezza ambientale che ha fatto dei passi in avanti enormi negli ultimi anni, il consumo di suolo continua e in fondo tutta questa spinta culturale che abbiamo cercato di alimentare a dire che bisogna concentrarsi sulla ricucitura, sul rammendo delle periferie, su dare qualità alle nostre città, piuttosto che sul consumare nuovo suolo. Ha avuto certamente dei risultati, perché non siamo ai livelli di qualche tempo fa, però c'è ancora molto da fare. Ci sono poi dei dati sorprendenti in positivo, dal mio punto di vista, come quello che riguarda la conversione bio dell'agricoltura, il fatto che ci siano 300.000 ettari convertiti ad agricoltura biologica con un 20% in più di operatori è un segno economico e culturale incoraggiante per il nostro Paese. Insomma, e in conclusione, la fotografia che il rapporto ci fornisce, innanzitutto testimonia dell'impegno delle autorità nazionali, regionali, locali e della consapevolezza dei nostri concittadini che ha consentito di fare dei passi in avanti, perché certamente si registrano in tutti i settori di cui il rapporto si occupa dei passi in avanti. Contemporaneamente questa fotografia ci dice che l'allarme non è cessato e che più che mai ci interpella, oltre che sul piano globale, anche sul piano locale, e che i cittadini hanno ben chiaro questo tema e la sua centralità. È importante, io credo, per chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli del Paese, nazionale o locale, per chi ha un ruolo rilevante nella società, nell'economia. È molto importante che ci sia consapevolezza, oltre che dell'allarme, anche delle enorme opportunità che questi temi rappresentano per l'Italia, per la nostra comunità. Perché dalla green economy, dall'economia circolare, viene una innovazione piuttosto speciale, speciale per tanti motivi, ma io ne ricordo un paio. primo perché è un'innovazione che non distrugge posti di lavoro, o comunque potenzialmente può creare posti di lavoro. Noi siamo tutti preoccupati di come dall'innovazione possano anche essere minacciati, messi in discussione, la quantità e la qualità del lavoro. L'innovazione dell'economia circolare della green economy può contribuire alla grande, grande sfida del lavoro per il nostro Paese. E l'altro aspetto è che si tratta di un settore in cui l'Italia è molto competitiva. Non ho qui il tempo di ricordare, ma verrà fatto certamente nel corso della mattinata, in quanti dei settori di cui si occupa il rapporto che oggi viene presentato, il mondo dell'impresa, del lavoro, della ricerca, della tecnologia italiani sono all'avanguardia in Europa e talvolta nel mondo. Quindi è una grande opportunità, non è solo un allarme quello che la fotografia ci offre, ci fornisce. Noi siamo in una fase politica di transizione, transizione. Penso che in una fase politica di transizione sia fondamentale innanzitutto avere sempre al centro l'interesse generale dei cittadini. Penso che i cittadini oggi ci chiedano almeno due cose. La prima è quella di non disperdere la fatica che è stata fatta in questi anni dalle famiglie, dalle imprese, dalle nostre comunità per tirarsi fuori dalla crisi. E quindi ci chiedono di usare i buoni risultati che sono stati raggiunti per curare le ferite sociali che sono ancora aperte. Perché i buoni risultati macroeconomici non curano le ferite sociali. E poi ci chiedono, per quanto possa apparire difficile o perfino paradossale, in una fase appunto di transizione, ci chiedono di guardare al futuro, non ai prossimi giorni, ma anche ai prossimi anni, di guardare a quello che sarà l'Italia nei prossimi anni e nei prossimi decenni. E se si guarda lontano, allora viene chiarissimo che far fronte alle sfide ambientali, cogliere le opportunità della conversione ecologica dell'economia è una delle cose più importanti che possiamo fare per il nostro Paese. Grazie e buon lavoro a tutti.